Ah, eccoci qua amici del bianconero.com a commentare l'ennesimo brobrio. Trovate voi un aggettivo per questo schifo che abbiamo visto oggi? Trovatemi voi un aggettivo? Io non so più che sinonimo, che aggettivo trovare. Orripilante, osceno, pessimo, non lo so, tiratelo fuori voi. Io non comincio a perdere le parole per vedere questa roba, questa cosa. Non so nemmeno come qualificarla. Cioè questa non è una partita da Juventus, non è niente, non c'è niente, c'è lo zero assoluto. Tant'è vero che per fare un'occasione da gol, il primo palo esterno di Iling Junior, abbiamo aspettato 66 minuti. Per fare un tiro decente contro la decente, che poi è un tiro deviato dal portiere e dato sul palo. 66 minuti, poi la girata di testa di Vlaovic al 68esimo e poi il palo all'89esimo. Questa è la partita della Juve, in casa col Gena, ennesimo partita in casa, ancora una volta con punti persi. Ma non è possibile, non è possibile. Cioè non vi siete stufati di vedere una Juve così. Non si è stufato Elkan. Elkan si è stufato o si diverte a vedere questa Juve. Non si è stufato, non vede che la Juve peggiora di giorno in giorno. Peggiora di giorno in giorno. Peggiora. E adesso andrai anche a Roma con la Lazio, che dovrai poi anche incontrare in capitale, ma con la Lazio, il sabato di Pasqua, senza nemmeno Vlaovic. Scusate, ma scusate, ma proprio uno sciocco per usare un termine gentile. Uno sciocco. Ma sì, fai fallo sul portiere. Ma cosa protesti? È impossibile sempre questi nervi. Ma fai gol invece di innervosirti sempre. Fai gol. Segna. Il nostro centravanti tanto non è Vlaovic. Il nostro centravanti è Gatti. Gatti è sempre lì in area che prova a tirare, a farlo stoccatore, a prendere di testa. Gatti. Che dovrebbe fare il difensore, fa il centravanti. Il centravanti, la Juve è Gatti. Ma è normale questo. Ma è normale questo. Ma poi, stiamo a discutere. Il Genoa, secondo me, se l'è strameritato questo pari. Strameritato. E che ha fatto il partitone? Tra che partito subito bene il Genoa e subito ha fatto l'occasione da gol con Bani, mentre la Juve ci ha messo, come abbiamo detto, 66 minuti per crearne una. Ma il Genoa ormai viene a Torino, sanno che possono provare a portare via il risultato e ce l'ha fatta. Ha fatto la sua onesta parita. Ma chi ha il Genoa in squadra? Chi ha? Chi sono tutti questi fenomeni? Retteghi? Badeli? Gudmundson? Questi sono i fenomeni del Genoa e tutti gli altri. Ma il Genoa è organizzato. Girardino le allena bene. E quindi sono motivati. Quello che non vedo più nella Juve è la motivazione, la voglia. C'è sempre solo partite noiose e svogliate. E svogliate. E poi, è chiaro che adesso Chiesa si piglia quattro perché ha fatto una brutta partita. Ma tutta la squadra che cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto tutta la squadra? Cioè, continuiamo sempre a dire le stesse cose. Ma è possibile che non abbia un'idea di gioco? Un qualcosa. Un qualcosa. Io ho visto anche dimesso a legge. Che in genere è uno che, quando la Juvezus era punto a punto, lottava con l'Inter, era più animato, più aggressivo. Anche in campo partecipava di più. Dicevamo sempre, sembra il dodicesimo uomo. Adesso vedo dimesso anche lui. Vedo dimesso anche lui. Ormai c'è un encefalogramma a piatto. Encefalogramma a piatto. Poi togli Chiesa, Metildiz, togli Costich-Mettiling, togli Mick McKenning. E tra l'altro è Kenny. Pare non fossi in grandi condizioni. Ma io ho visto. Tra quelli che hanno fatto qualcosina in più, lui è cambiato. Adesso qualcosina hanno provato a fare. Ho tolto. Rabbio oggi, anche lui. Niente. Ma c'è, alla fine, togli tutti, metti tutti. Cambia mai niente. Non cambia mai niente. C'è proprio un'uniformità di rendimento di questa squadra. Perché è una squadra che io ritengo, l'ho sempre ritenuta mediocre. Continuano a volermi convincere che non è vero. Però io dico, in una partita contro il Genoa, che non ha una grandissima rosa, ma almeno un a zero l'ha poi vinto. Cioè, con i giocatori che hai, facendo un pochettino più, trovando qualche idea in più, muovendo la squadra in un'altra maniera, inventandoti qualcosa, mettendoci soprattutto più voglia. I giocatori non hanno più voglia. I giocatori non hanno più voglia. Non c'è proprio voglia. Dendo tutti i migliori in campo, oggi, e li ringrazio i tifosi. Cioè, almeno, la curva, la curva. Cioè, ha incitato lo stesso la squadra fino alla fine, almeno l'ho fatto in loro. Cioè, ma se no, la squadra non meritava nemmeno di essere incitata oggi. Perché era veramente una cosa morfa, una cosa bruttissima. Una cosa bruttissima. Chiunque giocasse, chiunque fosse in campo. Cioè, io, ripeto, non ho più parole. Poi diciamo, le partite brutte della Juve, quante ne abbiamo viste, che è una novità. Sì, ma questa, questa, penso che addirittura superi lo sconcio che avevamo visto con Udinese. Penso che addirittura lo superi. Superi l'Empoli, perché l'Empoli era anche passato in vantaggio, ricordo. E poi sbaglia i cambi, e chiaramente l'Empoli poi pareggia. Ma nemmeno quella era stata così penosa in dieci uomini. Com'è stata questa? Questa è una pena totale. E tra l'altro, e tra l'altro. Avete visto il calendario? Guardate la classifica. E diciamoci in maniera chiara. La Juve, se non danno le cinque squadre per la Champions, la UEFA, il core ranking, l'Italia non raggiunge le cinque squadre, ci entra tra le prime quattro questa Juve, se continua a fare questi punteggi, a fare queste partite, ad avere questo rendimento, ad avere un cammino da squadra da retrocessione, ci entra? Ci entra? Il rischio è altissimo. Adesso incominci veramente a rischiare. Tanto più che hai da incontrare ancora Lazio, Fiorentina, il Derby, il Milan, il Bologna. A proposito, il famoso Bologna su cui si era guadagnato un punto. Bologna, con la stupenda prestazione di Empoli, che secondo me ne va in 4-0, anziché una 0-94esima. Adesso ha guadagnato due punti sulla Juventus. Due punti. E il Bologna, come io ho detto, anche in televisione, arriverà davanti alla Juve. La Juve arriverà probabilmente a conquistare forse, forse il quarto posto, forse meglio sarebbe se, ripeto, ci fosse la possibilità di avere le cinque squadre che almeno saremmo più sicuri. Ma al momento non è garantito. E non vedo nemmeno la parte della squadra la voglia di andarsi a prendere questo posto Champions con anticipo. Non vedo nemmeno la voglia. Non ho più parole. Veramente non ho più parole. Elkan dovrebbe fare qualcosa. Dovrebbe rendersi conto pure lui di tutta questa situazione. Giuntoli dovrebbe smettere di parlare bene di Allegri, anche se ormai quello è il mandato che c'ha. Questa Juve si deve svegliare in tutti i sensi. Allegri deve rendersi conto che la squadra fa pena, che la squadra fa pena e che l'allenatore di questa squadra che fa pena non è Marcello Chirico, non sono quelli sugli spalti, non sono quelli che guardano la parita a casa. È lui, è lui, è lui che non ha un'idea di gioco, non sa dare nulla a questa squadra, non ha saputo nemmeno riaccendere questa squadra. Questa squadra è piatta, è molle, è morta questa squadra. E lui non sa cosa fare? Lo teniamo? Elkan, lo teniamo ancora? Lui tanto non si dimette, quindi lo teniamo? Continuiamo così? Rischiamo in questo posto Champions? Ricordatevi quando Ranieri c'era il rischio che iniziava a perdere un po' troppe partite e venne sostituito da Ferrara nelle ultime due giornate perché avevano paura a quei tempi, ricordo, di perdere il posto Champions. Vi ricordate? Entravano le prime tre. Adesso siamo convinti che Mago Allegri ci porta in Champions League? Non lo so, è un bel rischio. Calcolatelo bene, Elkan, Ferrero e tutti gli altri.